Questa mattina all'alba intorno alle ore 4 e 30 è scattata l'operazione che ha interessato il quartiere Ciambra, abitata dalla comunità Rom, contando circa 300 persone in totale, tra cui molti bambini. Da molti anni questa zona è in condizioni di estremo degrado. Hanno fatto irruzione questa mattina un centinaio tra poliziotti, carabinieri, finanzieri e personale della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, sequestrando diverse aree trasformate ormai in discariche a cielo aperto. Oltre a quelle poste all'ingresso del quartiere, già oggetto di bonifica proprio in questi giorni da parte del Comune, con 490 mila euro di risorse regionali. Inoltre sono stati controllati i documenti relativi agli immobili e alle numerose auto presenti nel quartiere. Le forze dell'ordine hanno anche vagliato l'eventuale fenomeno della dispersione scolastica. Lo scorso settembre in Prefettura si tenne un incontro per fare il punto della situazione in merito agli interventi attivati per il superamento delle problematiche che interessano proprio il quartiere Ciambra di Gioia Tauro. Nell'occasione era stato comunicato dal sindaco di Gioia Tauro l'imminente avvio di un intervento straordinario di pulizia e riqualificazione del sito, con rimozione e conferimento dei rifiuti, sistemazione di parte della rete stradale e ripristino del collettore fognario, grazie ad un finanziamento regionale. Erano stati approfonditi anche gli aspetti relativi alla frequenza scolastica e sulla necessità di avviare progetti di inclusione nel tessuto sociale della comunità, sia per bambini che per ragazzi del quartiere.